Una famiglia che è quella dei materni è quella dei soggetti che sono predisposti all'aiuto, che si realizzano quando si sentono utili agli altri. Buongiorno a tutti, oggi parleremo di linguaggio non verbale nei video perché quando sei online e trasmetti la tua immagine al mondo esterno, quello che dici con le parole non sempre coincide con quello che esprimi con il tuo corpo. Oggi Sergio Omassi che è qui con noi, ciao Sergio. Ciao, ciao Emanuele, ciao a tutti. Esperto di comunicazione, di relazioni fondamentali, ma soprattutto di comunicazione, ci spiegherà come il linguaggio non verbale interagisce con il nostro pubblico a nostra insaputa. Questa conversazione, questa chiacchierata con Sergio è sponsorizzata dal mio progetto Corso SEO operativo perché c'è un modulo specifico per i video di YouTube che ti serve per avere i video di YouTube in prima pagina su Google. L'indirizzo è questo, seo.framesoft.it e attraverso questo corso i tuoi video di YouTube saranno in prima pagina su Google. Oggi quindi parleremo con Sergio di non verbale nei video per evitare di contraddire con il corpo quello che stai comunicando a parole. Eccoci qua, Sergio, ti lascio la parola. Intanto io, come dicevamo fuori dalla diretta, parlavamo di questo discorso che dobbiamo assolutamente sfatare il mito del 7%. È uno dei miei mulini a vento, sono un Don Quixote che combatte contro due mulini a vento nell'ambito del mondo non verbale che sono i miei nemici giurati. Il primo è quello che tramite il linguaggio del corpo si possa capire chi mente ed è una battaglia che faccio da anni, chi mi segue lo sa perché non è possibile ed è molto facile divulgare, è molto comodo divulgare una notizia di questo tipo perché poi le persone si iscrivono ai corsi. Se tu intitoli un corso scopri chi ti mente, arrivano tutti e non vedono l'ora di avere uno strumento per capire se il partner dice la verità, se il figlio mente, se il collega, il socio eccetera. L'altro mulino è quello della famosa tabella di Merabian, ovvero il fatto che viene divulgato ancora oggi ma anche da persone molto più titolate di me peraltro, perché io non sono né psicologo né laureato ma sono un misero life coach e nasco come comunicatore visivo, non tanto come comunicatore relazionale. Però viene divulgata appunto l'idea e la notizia che quando l'essere umano comunica, comunica per il 7% con le parole e per il 93% con il corpo e questo sempre. Beh, non è così e io lo dico da anni, non è così perché Albert Merabian che è il fautore di questa tabella nel 1977, se non sbaglio, la disse molto chiara, poi io sono andato appunto ad approfondirmi gli studi di Merabian e ho scoperto che è anche molto contrariato per questa deriva che ha preso la sua notizia che è stata appunto travisata, perché Merabian parla di una cosa molto specifica che si innesca molto bene con il tema di questa diretta, ovvero quando viviamo un'incongruenza tra ciò che vogliamo esprimere, tra ciò che vogliamo sembrare e ciò che proviamo davvero intimamente, allora sì funziona questa tabella, nel senso, faccio un esempio, se io sono profondamente arrabbiato con Emanuele ma voglio dissimulare la mia arrabbiatura e quindi sembrare calmo, allora inevitabilmente Emanuele percepirà dal mio tono della voce, dalle mie microespressioni, dalla mia prosodia, dal mio muovermi, dal mio corpo, capirà che qualcosa non torna, capirà che la mia calma è assolutamente artefatta e che dietro le quinte c'è un'arrabbiatura. Quindi solo in casi di incongruenza tra ciò che pensiamo e ciò che vogliamo esprimere è valida questa tabella. Ma lo dico davvero ad alta voce perché ancora non più tardi di due o tre giorni fa mi confrontavo con una persona che fa a sua volta il formatore ed è anche laureato in psicologia e confrontandoci sulle tematiche uscì proprio questa cosa e lo stesso dottor Pinco Pallino, non faccio il nome, me la vendette in questo modo, ma perché è stata divulgata così? Anch'io a suo tempo la imparai in questo modo, poi sono un pignolo, sono andato un po' come fa Emanuela quando smonta le schede elettroniche, sono andato a controllare davvero la notizia e ho scoperto che non è così. Quindi il tema di questo video, se non l'ho capito male, è riuscire ad avere una congruenza tra ciò che esprimiamo e ciò che esprime il nostro corpo. Beh Emanuela è una cosa veramente difficile, nel senso che per quanto una persona sia formata, come lo sono io ad esempio che faccio questo mestiere ormai da 35 anni, nonostante io conosca perfettamente le regole del linguaggio non verbale, posso assicurare a tutti che è impossibile riuscire a controllare il nostro corpo quando siamo concentrati in quello che stiamo dicendo. Quindi la regola aurea è in pratica il corpo non mette mai. E quindi è inevitabile che se tu stai facendo un video e per mille motivi non c'è congruenza tra ciò che tu vuoi esprimere in questo video e ciò che davvero provi intimamente, è abbastanza inevitabile che dall'altra parte l'interlocutore, lo spettatore, anche se non ha fatto corsi, percepisca che qualcosa non torna. Perché questo grado di percezione ce l'abbiamo tutti, bene o male questa sensibilità nel capire se una persona è vera o se c'è qualcosa che non torna, ce l'ha anche chi non ha fatto i corsi, diciamo così, di linguaggio del corpo, di comunicazione. Quindi il grande rischio è ostinarsi a voler divulgare delle notizie, magari senza crederci in prima persona. Oppure voler essere calmi davanti alla telecamera le prime volte quando invece me lo puoi confermare tu Emanuele che a tua volta sei passato dalle forche caudine dei primi video, no? I primi video sono imbarazzantissimi. Oggi sono circa tre anni che io sono online e anche oggi ho dovuto fare la mia respirazione perché quando sono al cospetto di personaggi di un certo spessore ancora mi emoziono e mi agito. Vedi che sono anche bello rosso in viso perché sono emozionato. Questo è bello perché ti rendi umano. È difficilissimo controllare il corpo quando sei davanti alla telecamera. È difficilissimo. Quindi una delle cose che facciamo anche quando parliamo in pubblico peraltro ci sono degli studi che dimostrano che la paura di parlare in pubblico è la più grande dell'essere umano. Addirittura viene nominata più spesso della paura della morte e ci sono fior di imprenditori, fior di manager bravissimi nel loro mestiere che quando devono parlare in riunione davanti a più di 5-6 persone vanno in panico le prime volte perché non si è abituati. Io mi ricordo la prima recita scolastica che feci in seconda elementare il terrore che avevo per uscire sul palco con i genitori davanti in questo teatrino terrorizzato completamente. Ma è un terrore che mi tornò a 18 anni quando feci la prima conferenza in pubblico e nonostante tu sei preparatissimo su tutti gli argomenti e su tutto quello che devi dire l'inconscio purtroppo se non è centrato ti sgambetta e ti fa vivere un pathos incredibile che ti fa diventare rosso ti tremano le gambe perdi i concetti addirittura. Quindi tutto questo per dire che anche quando parliamo in pubblico proviamo un po' la stessa cosa di quando ci mettiamo da soli in una stanza tutelata che può essere uno studio una camera e la nostra telecamera davanti non c'è nessuno che ci vede che nessuno è presente fisicamente però inconsciamente proviamo esattamente lo stesso patema che abbiamo quando sai Sergio cosa faccio io? Io mi preparo le scalette io nel mio corso SEO operativo per YouTube ho la scaletta perfetta e me le scrivo le cose le preparo ma poi quando sono in live non le leggo perché è talmente tanta l'ansia di quello che devo dire che poi bisogna anche ascoltare quello che tu mi stai raccontando quindi è il triplo sforzo non posso andare a ruota libera su un copione è difficilissimo riuscire a mantenere la calma e soddisfare quello che ti eri promesso di dire io dico adesso parlerò di questo questo e quest'altro argomento poi nella conversazione si va a parlare di tutt'altro e bisogna essere davvero dei mic buongiorno per riuscire bisogna essere fluidi bisogna essere come l'acqua ti dirò che la scaletta che è lì davanti io la chiamo la copertina di Linus in buona sostanza nel senso che uno come te che ha un preciso se non ho capito male sei una persona molto pignola molto precisa come me ci troviamo nella stessa barca Emanuele quindi abbiamo bisogno di queste certezze ad esempio io quando faccio i corsi ho bisogno di avere le mie slide precise perfette con il numero di pagina giusto eccetera eccetera poi succede che quando inizio il corso vado a braccio e mi dimentico addirittura di seguirle però se non le avessi andrei in panico una cosa che facevo a scuola io preparavo i bigliettini e sai i bigliettini che si fanno per copiare i compiti in classe no? sì io preparavo i bigliettini e non li usavo perché prepararli mi faceva fare quello sforzo mentale di riassumere il concetto e quindi mi faceva da ripasso e poi non mi servivano più durante il compito in classe quindi li preparavo per ripassare in realtà non perché poi li avrei dovuti usare ma è così alla fine sono degli escamotaggi ognuno ha i suoi e tornando al tema del video non ho sinceramente dei consigli specifici da dare a una persona che si approccia al video le prime volte posso mettervi per iscritto che l'emozione è tantissima come ribadisco essere davanti a un pubblico in presenza con delle persone che magari non conosci nemmeno che ti stanno a guardare da una platea quindi è naturale che i primi video siano molto strani tra virgolette una volta che te li riguardi non ti riconosci molto che è un po' lo stesso che avviene quando ascoltiamo per la prima volta la nostra voce registrata è difficile che una persona dica ma che sono io quella persona di perché siamo abituati ad ascoltare la nostra voce con un orecchio interno la ascoltiamo attraverso le nostre viscere tra virgolette e quindi quando viene registrata e la ascoltiamo da un microfono da un altoparlante è completamente diversa e molti non si riconoscono quindi davvero le prime volte sono terribilmente disagevoli diciamo così ma il mio canale youtube stesso se andate a vederlo se andate a vedere i primissimi video che ho fatto nel 2020 nonostante sia una persona che è abituata meno male a parlare in pubblico sono completamente diversi da quelli che faccio adesso e mi serviva una marea di tempo in più per fare quei video lì perché non ero mai contento del risultato e tornavo indietro rifacevo e pausa e taglia oggi li faccio un abbraccio e mi vanno molto più diciamo così all'obiettivo a proposito di questo canale youtube tuo che ho messo anche il link se qualcuno vuole andare a curiosare c'è un video che mi piace molto che riguarda le gestualità delle mani come le mani parlano e c'era il discorso del carattere femminile maschile questa cosa secondo me può essere molto utile a qualcuno se ti va di dire due parole su questo argomento due parole è impossibile per grandi sommi capi diciamo sì per sommi capi sì ti ricordo che è un corso che si sviluppa in 16 ore quindi abbiate pazienza se magari riuscite a capire poco di quello che dico innanzitutto non si parla di femminile maschile ma di materno e paterno ovvero di macro caratteristiche caratteriali che hanno le persone i nostri interlocutori ma noi stessi e a prescindere dal sesso di appartenenza di una persona ci può essere ad esempio un uomo come me io sono un maschio fino a prova contraria e però sono di carattere materno e ci sono e ho visto che ci salutava poco fa Elisabetta Brambilla eccola qua che fa di nuovo un commento che io conosco molto bene per essere una carissima amica è una femmina a tutti gli effetti anche molto bella peraltro però è paterna e cosa vuol dire questo? vuol dire che ci esistono due macro famiglie diciamo così nelle quali ognuno di noi entra in prioritariamente per cui una famiglia che è quella dei materni è quella dei soggetti che sono predisposti all'aiuto che si realizzano quando si sentono utili agli altri e qui Emanuele mi sento di darti un benvenuto nel senso che io non ti ho mai visto dal vivo non ho mai potuto osservare le tue gestualità ci siamo sempre parlati solamente per telefono ma osservando quello che fai nella vita e quindi ad esempio semplicemente andando a vedere tutti i tutorial gratuiti che hai fatto sul tuo canale quella cosa lì mi dice fortemente che Emanuele Frisoni è un materno che si realizza quando si sente utile agli altri al mondo ok quindi è un tipo di caratteristica secondo me molto bella che però attenzione certe volte può creare dei problemi ovvero in tutta la psicologia analogica che è un po' la mia materia si deve per forza parlare di equilibri e quindi chi è troppo materno rischia di sostituirsi dagli altri nella risoluzione dei problemi ad esempio faccio un esempio banale se sei un genitore e hai questa attitudine a aiutare tantissimo tuo figlio o tua figlia può capitare che continuando a fare tu per lei o per lui alla fine li fai crescere senza gli attributi perché tanto c'è la famosa bambagia nella bambagia io ho un rischio che ho corso e che ho vissuto sulla mia pella con una madre femmina e materna che mi ha riempito di attenzioni metti la sciarpina prima di uscire e ti vado io in posta a farla raccomandata ti faccio io la carta d'identità ti prenoto io gli esami dal dottore finché c'è la mamma che fa ste cose tu sei in paradiso e sei nella bambagia ma un domani che la mamma non c'è più e ti trovi adulto incapace di affrontare determinate cose che gli adulti sanno affrontare dall'altra parte ci sono i paterni che purtroppo spesso secondo le descrizioni che faccio vengono presi per soggetti un po' difficili io invece li trovo assolutamente meravigliosi perché il paterno ha delle doti meravigliose ad esempio una è non avere molto i peli sulla lingua quando ti deve dire qualcosa il paterno te la dice non si preoccupa tanto come fa il materno di ferirti ma trova magari il modo giusto per dirti delle cose che magari sono anche scomode ma te le dice e quindi ti fa crescere il leader migliore è un leader paterno non materno il materno rischia di ad esempio se deve faccio un esempio banale se deve stabilire i turni di lavoro si accolla i problemi degli altri e comincia ad andare in guilt perché dice mamma mia Maria ha un bambino appena nato non posso farle fare la notte e però c'è Giuseppe che ha la mamma con l'alzheimer quindi anche lui non può fare la notte alla fine la fai tu che sei il manager assurdo quindi invece il paterno ha molto più è molto più direttivo non si accolla i problemi questo è che rascende nel discorso video nel discorso presentarsi in pubblico o che sia una live come questa o che sia un video registrato per youtube o un tiktok o che ne so un video di qualsiasi genere come riusciamo a conciliare questi caratteri per trasmettere sia in parte il carattere materno quindi dobbiamo essere accoglienti nei confronti del nostro pubblico ma allo stesso tempo dobbiamo essere paterni quindi non troppo come si può dire un aggettivo non mi viene un aggettivo adatto non troppo accoglienti e non troppo per essere più di polso forse si potrebbe dire è possibile Emanuele farlo tramite i gesti però non è facile nel senso che i materni ad esempio hanno un tipo di gestualità molto tipica che purtroppo tra l'altro in video non è facilissima provo ad allargare un po' la figura quando parlano i materni fateci caso fanno un gesto che è questo con le mani lo fa Geriscotti lo farà Merkel lo fa Crozza lo faccio io in aula quando parlo spesso metto le mani in questo modo a coppa diciamo così e le muovo aprendole chiudendole questo è un gesto tipico materno che a livello passando in termine ipnotico passa all'interlocutore proprio che io sono una persona materna accogliente ok e quindi chi dall'altra parte è stimolato positivamente da questo tipo di simbolo viene coinvolto molto viceversa chi è stimolato dall'altro simbolo che è quello del paterno che è il dito puntato alla sgarbi per intenderci o non so faccio anche esempi politici la meloni che usa addirittura due dita e renzi facciamo un colpo alla sinistra un colpo a destra cioè meloni e renzi sono due persone che hanno un atteggiamento più paterno che materno e quindi gesticolare in video questa è una cosa che consiglio a tutti e nel mio video cerco di farla tanto ovvero di prendermi a mezzo busto e di far vedere le mie mani che si muovono perché a prescindere da come le muovi le mani che siano in maniera paterna che sia in maniera materna è molto bello che si vedano secondo me le mani che si veda la gestualità della persona perché rende il video più più umano più completo per intenderci noi adesso ci vediamo dallo sterno in su che è poco più che un primo piano più che un primo piano e purtroppo dall'altra parte a livello di contenuto relazionale arriva solamente il tono della voce il modo di parlare e le nostre microespressioni del volto manca poi c'è un altro aspetto che io ti devo denunciare che hai il monitor disallineato rispetto alla webcam quindi tu parli con me guardandomi in faccia però in realtà io vedo che tu guardi da un'altra parte questo è è una cosa che è complicata da mettere insieme anche qui su questo argomento approfondisci molto bene nel tuo canale e c'è questa cos'è una idiosincrasia non so come definirla è un grandissimo problema della comunicazione in video della nuova comunicazione virtuale perché io per guardarvi in viso per guardarti in faccia per guardarti negli occhi come se tu fossi qui davanti a me io dovrei guardare in questo momento non la tua immagine che vedo nel monitor che è naturale per me guardare perché è molto più simile al rapporto vero ma dovrei guardare la telecamera e quindi mi dovrei mettere a fare un discorso a un oggettino di alluminio che non si muove che è una cosa assolutamente inanimata e non è nelle corde dell'essere umano però in questo momento tu e chi ci guarda ricevono il mio sguardo giusto? infatti avverto avverto un leggero disagio perché stai parlando con un robot e non più con me ecco vedi che già è cambiata l'espressione del viso cambia tutto ma è uno dei grandi brammi secondo me della rete ovvero di questo anche dell'avvento delle videoconferenze dei webinar eccetera è che a livello umano viene meno una delle componenti fondamentali della comunicazione la prima componente che è quella del guardarsi negli occhi che sta venendo meno non solo quando comunichiamo in video come stiamo facendo tu ed io in questo momento perché per forza di cose non guardiamo la telecamera ma guardiamo la faccia dell'altro nel nostro monitor devi deciderti guardi una parte guardi dall'altra esatto ma non ce la fai io più di tanto non riesco a guardare quella roba lì santo Dio faccio fatica a fare un'ora parlando con quello riesco quando faccio il video da caricare su YouTube perché sono da solo e so che la telecamera è lì e quindi guardo in camera sai che il tuo pubblico è dentro la telecamera per cui esattamente ti impedisimi meglio ma quando comuniciamo così non è facile concentrarsi e rimanere sul pezzo per il fatto che devo continuare a guardare lì ma non succede solo in video dicevo quando facciamo le video call succede anche purtroppo che oggi siamo talmente rapiti dai nostri smartphone che spesso comunichiamo con una persona che è in presenza e accanto a noi nostro figlio ad esempio che ci chiede delle cose e noi rispondiamo guardando nel monitor del nostro telefono come se non ci fosse come se bisognasse per forza vedere quel messaggio in quel momento quando c'è nostro figlio che è lì e che ci chiede delle cose il mio consiglio l'ho detto anche in alcuni video mettetelo via quando potete il cellulare cioè è bruttissimo rapportarsi con una persona che è lì fisicamente e ti risponde a monosillabi perché mentre parli tu lei guarda nel monitor per mille motivi c'è anche chi gioca con il solitario delle carte no? non è vitale l'email sempre a cui devi rispondere per forza spesso ci facciamo rapire da questi strumenti e viene meno un'altra volta lo sguardo ma sai ci sono le notifiche sono rosse ti attirano suona vibra è un casino questo telefono bisogna no ti chiama come una sirena continuamente è una delle voci che si fa allegare all'albero maestro è una delle voci del capitalismo che chiama continuamente noi rispondiamo ormai siamo talmente abituati a rispondere adesso voglio provare a vedere se spostando la telecamera cioè spostando la finestra del browser magari riesci a vedermi un pochino più ho la telecamera posizionata esattamente in mezzo io guardando un centimetro sopra alla telecamera vedo te cioè ho posizionato la finestra in maniera tale che vedo te dall'altra parte sì potrei farlo anch'io ma io sono un pigro vedi adesso faccio così e faccio così che io poi sai come dicono il calzolaio ha le scarpe rotte spesso quindi predico bene e poi faccio queste cose anch'io ascolta Sergio visto che 25 minuti non voglio farla tanto lunga magari poi dopo se vogliamo approfondire l'argomento successivamente magari ci troviamo anche nel 22 adesso è finito l'anno questa è l'ultima chiacchierata che facciamo poi dopo c'è Natale Capodanno Salto fino a Gennaio però vorrei vorrei dare la possibilità al pubblico di intercettarti in qualche maniera perché sicuramente qui abbiamo dato un'infarinatura e io per tutti coloro che acquisteranno il corso SEO operativo lo faccio rivedere corso SEO operativo su seo.friendsoft.it c'è il modulo specifico per YouTube ma mi sento di consigliare caldamente anche anche uno dei tuoi libri o comunque una coaching direttamente con te se sei di persona dunque tu sei a Brescia mi sembra no? Sì 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 sia di persona ma anche online tu riesci anche online si possono fare i coaching sì volevo intanto dare la possibilità a chi ci segue di dare un'occhiata ai due libri che hai scritto il manuale per la relazione con te magari ci dici due paroline veloce veloce di che cosa si tratta questo è anche il link di Amazon che c'è anche nella descrizione e l'altro il manuale per le relazioni fondamentali perché comunque conoscere questi aspetti delle relazioni per quanto si parli di relazioni umane diciamo a contatto no? nel senso con le persone che ti stanno vicino familiari colleghi di lavoro eccetera o comunque come mi dicevi prima il manuale per la relazione con te stesso si parte da se stessi chiaramente per poi aprirsi agli altri perché comunque queste relazioni ci aiutano anche nei video anche nella comunicazione in video la settimana scorsa parlavamo con mia sorella di ego quindi come l'ego ci danneggia ecco in questo momento anche la relazione molto importante secondo me è un approfondimento no? di quello che dicevamo la settimana scorsa sì hai toccato un tema che è quello dell'ego che è fortissimo per me quando parliamo di relazione mi piace l'idea di riuscire a svuotarlo questo ego perché è l'unico modo nella mia visione oggi dopo tutti gli anni di studio che ho fatto per riuscire a relazionarsi in una maniera migliore con gli altri è svuotare l'ego proprio come fosse un palloncino e lo buchi perché questo? perché come nel karate ad esempio che la parola karate dice mano vuota no? karate è fatto da kara che è vuota e te che vuol dire mano vuol dire combattere a mani vuote secondo me nella relazione che non è mai un combattimento nella mia visione però bisognerebbe riuscire a svuotare non le mani ma il proprio ego proprio uscire dal dai pregiudizi dai dalle asserzioni dogmatiche e quindi accogliere nel migliore dei modi l'altro quando parlo di relazioni fondamentali di solito le persone per accezione comune pensano alle moglie ai mariti ai figli alla famiglia alle persone care nella mia visione la relazione fondamentale è anche quella cioè è sempre quella con le persone con cui passo tanto tempo quindi anche il mio collega con cui lavoro gomito a gomito otto ore al giorno e spesso sono di più di quelle che dedico ai miei figli alla mia famiglia è fondamentale perché se non vado d'accordo con Roberto o con Maria che sono nell'ufficio insieme a me inevitabilmente io per primo mi porto a casa un disagio emotivo immaginati un ufficio in cui ci si fanno gli sgambetti in cui ci sono i pettegolezzi e alcuni le vivono quotidianamente queste cose e poi si domandano come mai la mattina mi sveglio e ho la nausea e mi viene a dire te credo che c'hai la nausea perché quel tipo di relazione che è fondamentale per il tuo benessere non funziona quindi nel primo libro che ho scritto nel 2020 che si intitola manuale per relazioni fondamentali cerco di accompagnare le persone a smetterla di essere se stesse che sembra una roba forte ma vuol dire quando qualcosa non funziona nella relazione di solito pensiamo alla fine ci salviamo un po' dicendo e vabbè ma io sono fatto così ecco io sono fatto così è una frase che secondo me dovremmo morderci la lingua tutte le volte che la diciamo perché se riusciamo a essere un pochino diversi e a far funzionare le relazioni in modo che vinciamo noi e vince anche il nostro Mario la nostra Roberta nell'ufficio e stiamo bene tutti si vince tutti e si sta meglio tutti quindi manuale per relazioni fondamentali accompagna a capire che c'è una modalità molto bella molto umana di relazionarsi con gli altri e l'anno dopo ovvero quest'anno ho pubblicato manuale per la relazione con te in maniera assolutamente strana perché avrei dovuto partire sarei dovuto partire dalla relazione con se stessi arrivare alla relazione con gli altri ma io sono fatto strano e quindi il secondo libro parla proprio del rapporto più importante in assoluto che è quello tra Sergio e il piccolo Sergio che c'è che c'è dentro tra Emanuele e il piccolo Emanuele ognuno di noi ha dentro quello che Freud chiamava l'inconscio io preferisco chiamarlo io bambino c'è una istanza emotiva che è assolutamente primitiva assolutamente infantile e riuscire a capirla e andarci d'accordo ci fa vivere sicuramente molto meglio bene penso che questa sia una sintesi una sintesi ottima direi che per questa sessione possiamo fermarci qua e se vogliamo approfondire ci ritroviamo prossimamente io a Sergio ti ringrazio tanto è stata una grande gioia per me poter scambiare finalmente due chiacchiere con te guardandoti in video grazie